Amici di Carrara, il 26 giugno è una data importante per Carrara, i cararesi e tutto il territorio. C'è la possibilità di un grosso rinnovamento. Simone Caffaz, candidato a sindaco, diventa sindaco di Carrara e si inizia una nuova storia. Io sono il segretario nazionale del nuovo PSI, il Partito Socialista Italiano, il partito che è stato fondato nel 1892 a Genova da Andrea Costa, da Filippo Turati, da Anna Kulishoff e che poi ha avuto tra i protagonisti Sandro Pertini, Nenni, Pertini e soprattutto Bettino Craxi. Quel Partito Socialista che rappresento, io sono lungianese, sono Diaulla, sono un cittadino di questa provincia, sono il socialista di questa provincia, vi posso dire che i socialisti voteranno tutti per Simone Caffaz, lo voteranno a prescindere perché porta un vento di rinnovamento, perché finalmente ci risolve il problema annoso di Carrara che è il porto nel suo programma, dove ovviamente le navi da crociera non dovranno più andare alla Spezia perché mandate a forza, dove l'economia Spezzina ha avuto un incremento stratosferico, hanno cancellato Sarzana che era il polmone economico della provincia di La Spezia e La Spezia giustamente si è ripresa il ruolo che aveva e che ha adesso, quel ruolo che poteva avere Carrara perché prima erano arrivanti qui alle navi, ma poi i comunisti, i postcomunisti, i soliti noti hanno voluto cacciarlo via per meri interessi di gestione dell'attuale porto. E poi la marmifera, oh viva Dio, avere avuto una ferrovia che da mare, da zero sul livello del mare, ci portava a 1800 metri, era una orde di visitatori con tutti i benefit e era stata buttata giù per fare quattro case popolari. Ebbene nel programma di Simone Caffas c'è anche questo, di riportare questa struttura a cremaliere a quella che c'è a San Francisco, i famosi tram di San Francisco che sono una meta importante del turismo. Quindi i socialisti e i cittadini di Carrara il 26 giugno vanno a votare e votano Simone Caffas.